Perché purtroppo anche le cose belle hanno un termine e se doveva finire era finita troppo bene. Forse il destino mi ha fatto pensare questo, perché l'ultima partita, insomma, segnare davanti alla mia gente, con lo stadio così, col mio gol, se avessi fatto una sceneggiatura forse non l'avrei disegnata così bene. Allora perché chiedere al destino, insomma, 39 anni e ho giocato ancora nel Milan, ho vinto tutto. Chiedere troppo, andare in giro ancora, non ne valeva la pena. Poi ho questa grande occasione, insomma, il Milan ancora una volta, oggi mi ha fatto due anni di contratto, che significano forse poco, ma per me tantissimo, perché insomma mi legano due anni da allenatore in una società che magari spera di vedermi un giorno sulla panchina del Milan, per cui chi meglio di me può sognare una cosa così e di conseguenza i tifosi del Milan.